Il Boston Terrier è una razza canina. È stato allevato nel XIX secolo negli Stati Uniti incrociando il Terrier inglese con il Bulldog inglese, seguito dalla giunta di sangue di altre razze. Nel 1893, il Boston Terrier fu riconosciuto come razza separata dal Bull Terrier. Dal 1979 è il simbolo ufficiale dello stato del Massacusez. Il Boston Terrier è stato popolare sin dal suo inizio poco più di un secolo fa. Originariamente allevati come cani da combattimento, oggi sono compagni gentili e affettuosi con segni simili a uno smoking, guadagnandosi il soprannome di American Gentleman. I Boston Terrier sono cani molto affettuosi che vanno d'accordo con tutti i membri della famiglia in quasi tutte le case, anche in un appartamento. Tuttavia, questi cuccioli giocosi hanno bisogno di molta attività fisica. Se riesci a dare al tuo cane tanto amore ed esercizio, avrai un adorabile e leale migliore amico. Il Boston Terrier, secondo alcune versioni, era allevato come un feroce cane da combattimento, ma ad oggi questa versione non ha trovato una conferma esatta. Il piccolo gentiluomo americano, come era conosciuto nel XIX secolo, è sicuramente un amante piuttosto che un combattente, anche se è noto che i maschi mostrano in una certa misura i loro antenati Terrier quando sentono che il loro territorio è stato invaso da un altro cane. I Boston Terrier sono noti per la loro intelligenza, a volte troppo. La loro natura vivace e affettuosa li rende estremamente attraenti. Sebbene i Boston Terrier siano piccoli, sono forti e muscolosi. Hanno un mantello liscio, lucido e dritto con nitidi segni bianchi, che ricorda uno smoking, che è uno dei motivi per cui sono chiamati American Gentleman. Le caratteristiche orecchie del Boston Terrier sono erette e abbastanza grandi. Grandi occhi belli, che si trovano abbastanza distanti l'uno dall'altro, completano il loro aspetto attraente. Il Boston Terrier ha un uso ampio, piatto e senza rughe. Appartengono a una classe di cani chiamati brachicefali, brachi è corto e cefalico è la testa. Come altri cani brachicefali, la mascella inferiore è proporzionata al corpo, ma hanno una mascella superiore corta, che fa guardare il loro muso verso l'interno. La postura del Boston Terrier conferisce loro un aspetto, che supera le loro dimensioni. La coda è naturalmente corta, la tracco è vietato, e attaccata bassa. Le piccole dimensioni, e la natura vivace e affettuosa del Boston Terrier lo rendono un eccellente animale domestico e compagno. Amano i bambini, e divertono le persone di tutte le età con le loro buffonate ed espressioni facciali uniche e attraenti. Sono buoni compagni per gli anziani, e gli abitanti di appartamenti. Anche se sono gentili ed equilibrati, possono avere il comportamento energico dei loro antenati Terrier. Peculiarità. I cani dal naso corto come il Boston Terrier non possono raffreddare l'aria che entra nei loro polmoni in modo efficiente come le razze dal naso lungo, e sono molto più suscettibili allo stress da calore. A causa del loro pelo corto, non possono tollerare un clima molto freddo. Anche nei climi temperati, il Boston Terrier dovrebbe essere tenuto al chiuso. Poiché il Boston Terrier può avere problemi respiratori, non tirare il collare per costringere il cane a fare quello che vuoi. Il tuo Boston Terrier è soggetto a ulcere corneali perché i suoi occhi sono così grandi e sporgenti. Fai attenzione ai suoi occhi quando giochi o cammini. A seconda in parte della loro dieta, i Boston Terrier possono essere inclini alla flatulenza. A causa del naso corto, i Boston Terrier spesso sbuffano, sbavano e russano, a volte rumorosamente. Mentre i Boston Terrier tendono ad essere cani tranquilli e gentili che non sono inclini a irritabilità o aggressività, i maschi possono essere ostili con altri cani, che sentono invadere il loro territorio. I Boston Terrier possono mangiare troppo, quindi tienili d'occhio e assicurati che non aumentino di peso. Possono essere testardi, quindi la persistenza, e la coerenza sono un vantaggio decisivo nei metodi di allenamento. Sono sensibili al tuo tono di voce, e le punizioni possono far sì che smettano di ascoltarti, quindi l'allenamento dovrebbe essere discreto e motivante. Per avere un cane sano, non comprare mai un cucciolo da un allevatore irresponsabile. Trova un allevatore rispettabile che testi i loro cani da riproduzione per assicurarsi che non abbiano malattie genetiche che possono trasmettere ai cuccioli. Origini del Boston Terrier. Nella seconda metà del XIX secolo, nell'area del New England, un allevatore incrociò un bulldog inglese con un terrier inglese bianco. Il risultato di questo incrocio fu un cane molto alto che pesava 14,5 kg con strisce scure e macchie bianche. Si chiamava giudice di Hopper. Nel 1865 fu acquistato da un certo William O'Brien di Boston, Massacusez, USA, che in seguito lo vendette a Robert S. Hopper, anche lui di Boston. Questo cane è stato successivamente allevato con una femmina di nome Gip di proprietà del signor Burnett di Thereford Farms, Massacusez. Era bianca e aveva gambe corte, muso corto e testa squadrata. Sebbene l'aspetto non fosse quello previsto, il signor Hopper è stato soddisfatto del risultato. La prole risultante da questo incrocio fu l'inizio della razza. Ci sono voluti molti decenni e molte generazioni di consanguineità, o crossing e ibridazione per produrre la razza che conosciamo oggi come Boston Terrier. Si ritiene inoltre che il bulldog francese fosse uno degli antenati di questa razza. Fatto interessante. Poiché questa razza non aveva un nome, i proprietari hanno sperimentato nomi diversi, incluso Rondead, ma nessuno di loro ha preso piede. Poi H. Lucky, giudice e giornalista, ha suggerito in un articolo di giornale locale che, poiché questa piccola razza è originaria della storica città di Boston, perché non dovrebbe chiamarsi Boston Terrier? Quindi abbiamo deciso. Nel 1891, più di 40 proprietari fondarono il Boston Terrier Club of America, dove venivano dettagliati gli standard di razza. Dopo che il cane fu ammesso all'American Kennell Club nel 1893, la sua popolarità aumentò. Nel 1908, il Boston Terrier era diventato popolare in Canada. All'inizio degli anni 30 fan entusiasti portarono il Boston Terrier nel Regno Unito. Con l'aumentare dell'interesse, Arthur Craven ha chiesto, che il Boston Terrier fosse allevato attivamente per scrivere un libro, che illustrasse gli allevatori della razza. Craven aveva già scritto libri su altre razze, e, dopo un'attenta considerazione, ha scritto la pubblicazione The Boston Terrier As Primo Knovit. Manutenzione e cura. Nelle giornate calde, la razza soffre di surriscaldamento, e, al freddo, un pelo corto e privo di sottopelo non può fornire abbastanza calore a un amico a quattro zampe, quindi il Boston Terrier deve vivere in una casa, o in un appartamento. Si consiglia di organizzare un luogo di riposo separato per il cane in un angolo appartato, posizionandovi un morbido materasso o un cesto. A proposito, i Boston Terrier dipendono estremamente dai morbidi letti di piume, quindi preferiscono i letti normali ai letti, dove si rilassano volentieri con il proprietario. Eppure, è meglio non abituarli a tali eccessi, poiché la stragrande maggioranza dei Boston soffre di flatulenza. È improbabile che sarai deliziato dall'assoluto contenuto gasato della tua camera da letto, che diventerà una giunta indispensabile all'animale domestico sdraiato sul letto. A passeggio. Nonostante il Boston Terrier sia una razza decorativa al 99%, i suoi rappresentanti sono tutt'altro che introversi e non possono fare a meno di camminare. Porta fuori, o porta fuori se è un cucciolo, il cane all'aperto due volte al giorno con un occhio indispensabile alle intemperie. Se fuori dalla finestra infuria una bufera di neve, o il sole coccente, è meglio posticipare la passeggiata o spostarla un'ora successiva barra precedente della giornata. Al caldo, è più saggio portare con sé una bottiglia d'acqua e una ciotola di plastica leggera per abbeverare il tuo animale domestico mentre cammina, raffreddandolo così. Per strada, i cani preferiscono i giochi con la palla attivi e le commissioni brevi. Se hai un animale domestico ultrastatico e fuori è inverno, è meglio vestirlo con uno spesso berretto di feltro. È anche importante svezzare il Boston Terrier da raccogliere da terra qualsiasi cibo, anche il più innocuo e allettante. I cacciatori di cani non dormono, vale la pena ricordarlo. Le esigenze di esercizio dei bostoniani variano a seconda del cane. Per alcuni sarà sufficiente una breve passeggiata una o due volte al giorno. Altri impiegheranno più tempo per correre e giocare ogni giorno e sfogarsi. Il solo fatto di lasciare un bostoniano nel cortile sul letro non conta come esercizio. Probabilmente starà semplicemente seduto vicino alla porta, in attesa di essere fatto entrare di nuovo. Lasciato solo per lunghi periodi di tempo, il bostoniano tende a sentirsi frustrato. Lanciagli una palla, o un giocattolo, e sarà più che felice di giocare con te. La partecipazione a sport per cani come l'agilità, l'obbedienza, i fliballi e i ralli è un modo divertente e corretto per liberare l'energia di un cane. Alimentazione. Le preferenze di gusto del Boston Terrier sono piuttosto tradizionali. I rappresentanti di questa razza rispettano la carne magra cruda, le frattaglie, i filetti di pesce oceanico e il latte acido magro. Molto meno ai cani, piacciono tutti i tipi di integratori contenenti fibre come cereali, grano saraceno, risso, e verdure, ma gli animali domestici si abituano rapidamente a loro. Una volta alla settimana, il boston terrier dovrebbe essere coccolato con tuorlo di pollo, ma le uova di quaglia possono essere date intere ogni giorno. Nel primo anno di vita, quando il boston terrier sta attivamente formando lo scheletro, nella dieta dovrebbero essere inclusi cibi ricchi di collagene, come la cartilagine e i complessi vitaminici con chondroitina. A proposito, più cibo del genere, è nel menù del cucciolo, più velocemente le sue orecchie si alzeranno. Prodotti vietati. Dolci e confetteria, gelato, ogni tanto puoi avere un paio di cucchiai, qualsiasi carne grassa, legumi, semole d'orso e miglio, patata, pesce di fiume, ossa tubolari. Salute. Proteggere gli occhi belli ma prominenti del boston terrier è di particolare importanza. Gli occhi devono essere controllati quotidianamente per arrossamenti o irritazioni. Alcuni portatori portano con sé colliri salini per lavare via polvere o detriti. Gli allevatori responsabili controllano il loro stopper problemi agli occhi come cataratta, ulcere corneali e glaucoma, nonché sordità e lussazione rotulea. Come tutte le razze dalla faccia piatta, i boston possono avere difficoltà a respirare quando non ricevono un riparo adeguato dal calore o dall'umidità eccessivi. Prezzo boston terrier. In Spagna, Francia, Italia e Germania, i boston terrier non sono così diffusi come nella loro terra natale, tuttavia, ci sono diversi allevamenti nel paese, che allevano e rendono popolare la razza. Per quanto riguarda i prezzi, sono determinati principalmente dalla reputazione dell'allevatore e dalla classe del cucciolo, mostra, animale domestico, razza. In particolare, cercare bambini promettenti che valgano meno di 300 dollari usa in cuccia, è un'occupazione vuota e priva di significato, perché il prezzo medio di mercato di un cucciolo di boston terrier con un aspetto esteriore ideale è di 1100 dollari usa. È più opportuno per gli amanti degli animali senza ambizioni, e con un'economia ragionevole acquistare animali domestici della categoria degli animali domestici. Naturalmente, l'aspetto di tali boston è lontano dallo standard, ma il loro prezzo è inferiore alla metà di 600 dollari usa.